Buonasera, questa sera ci sono un po' di difficoltà di connessione, speriamo che questa volta ce la possiamo fare. Le cose tecnologiche sono molto utili, ma può succedere che vanno e vengono. Bene, speriamo che tenga la connessione, adesso pare che funzioni. L'argomento di questa sera è quali sono gli elementi di base o le informazioni per chi si avvicina per la prima volta al buddismo o anche per chi già è nel buddismo, ricordare qualche cosa di fondamentale è molto importante perché le basi servono per poi proseguire e fare delle ricerche in modo più accurato e dettagliato. Perché piace l'insegnamento del Buddha? Questo chiaramente fate conto che è il filtro della mia esperienza, della mia conduzione di un centro da 34 anni. Io faccio male a un po' dei conti, non so tanto con l'età, con le date, comunque un po' di anni, un po' di anni che c'è questo centro perché si pratica il Dharma, perché si cercano gli insegnamenti del Buddha. Cos'è la cosa che attira principalmente dell'insegnamento? Intanto è il buon cuore che si risveglia, nel senso che si dà importanza alla bodicità, alla compassione, a voler sentire che tutti gli esseri senzienti siano felici, non solo per se stessi ma anche per gli altri, che la propria felicità è legata a quella degli altri. E quindi questo è già un punto molto molto bello in cui ci fa pensare che la felicità è qualcosa di interdipendente fra tutte le persone. Quindi cercare di collaborare con tutti gli esseri in modo secondo le proprie possibilità e accrescere la possibilità di comunicare con il buon cuore, con la comprensione di utilizzare le risorse che appartengono a tutti, non solo a noi stessi, è una delle cose che è importante per poter comprendere l'insegnamento del Buddha. Il Buddha insegna proprio questo, che tutti gli esseri vogliono la felicità come non le vogliamo e quindi è importante pensare che le risorse della propria felicità sono legate anche alle altre persone. Come noi vogliamo avere una bella casa, avere una famiglia, avere una carriera, avere tutto quello che desideriamo, così lo vogliono anche tutti gli esseri, anche se spesso gli oggetti del desiderio sono proiettati a cose che veramente non danno la felicità in modo stabile, perché gli oggetti, le cose legate al desiderare hanno comunque un limite e un fine, un inizio e una fine. Quindi desiderare qualcosa che va al di là di quello che sono gli oggetti o tutto quello che passa nella vita sicuramente può darci un oggetto di soddisfazione più profonda. Quindi le qualità del buon cuore, dell'amicizia, del volere che tutti gli esseri siano felici è qualcosa che già è soltanto sentirne parlare, ci ristora il cuore, ci sentiamo più soddisfatti e questo è proprio anche un invito che vi faccio sentire queste emozioni del positivo in modo che possano entrare di più nella propria vita. Nel mondo noi vediamo tante situazioni di sofferenza tremenda, l'Afghanistan, e quindi ci sono delle situazioni estreme di egoismo, di ignoranza, nel senso di ignorare che cosa ci fa felici e quindi creare una situazione di comprensione senza giudizio di quello che succede nel mondo e nel nostro fortuna di non essere in situazioni estreme di tremenda sofferenza o comunque di disagio che gli occidentali hanno comunque come privilegio di evitare in questa situazione mondiale di popoli e di persone che sono tremendamente sofferenti. Il mio maestro addirittura l'ha paragonato come una terra piena di sofferenza come Inara, come le tremende sofferenze degli inferni. C'è quindi veramente tante persone che soffrono tremendamente e altre invece che stanno abbastanza bene, ecco, perché comunque se non si toglie la causa della sofferenza noi saremmo comunque soggetti a soffrire prima o poi o più o meno come anche, diciamo, godere le cose che abbiamo però quando è finito il combustibile della buona sorte e delle cose che stiamo godendo arriverà inesorabilmente la sofferenza. Quindi il secondo punto, il primo abbiamo detto il buon cuore, sentire gli altri come noi stessi, sentire che c'è una profonda coltivazione dell'amicizia verso tutti gli esseri senzienti, non soltanto verso il genere umano. Quindi il primo punto che può colpire o comunque dare un impatto molto molto bello di attrazione è proprio questo aspetto dell'amore universale verso tutti gli esseri, la podicitta. Il secondo punto è proprio la rinuncia alla causa della sofferenza. E non è una rinuncia come nel senso che abbandono tutto, lascio tutto, devo strapparmi di dosso le cose che in cui ci tengo tanto, che comunque fanno parte della mia vita, no? Togliere, come quando si ha una malattia, togliere quello che è la causa che ci fa soffrire. Per arrivare a toglierlo veramente bisogna applicarsi, bisogna fare diversi esercizi, dallo studio alla pratica, alla meditazione, comprendere quali sono i veleni mentali che creano sofferenza. E comunque non è energia che viene eliminata e basta, è energia che abbiamo comunque noi e che comunque si può trasformare in qualcosa di bello. Ogni sofferenza ha il suo aspetto positivo, quindi non è detto che noi dobbiamo per forza soffrire per sempre. Si può capire la causa della sofferenza e rimediare. Rimediare risvegliando il nostro potenziale opposto. Se c'è l'ignoranza c'è anche la saggezza. Se c'è l'attaccamento, la bramosia, l'insoddisfazione, c'è anche la soddisfazione. Se c'è l'odio, la rivalità, il senso di lotta che si ha per possedere e per pensare di avere di più, ci può essere anche la soddisfazione e non è, diciamo, la magnanimità, la benevolenza verso tutti gli esseri. Come può esserci la generosità, se si ha attaccamento ai beni materiali, in accumulo, oltre a quello che ci serve, si può anche benissimo essere soddisfatti avendo quello che abbiamo, senza desiderare altro. La gerosia e l'invidia si può trasformare in qualcosa in cui si gioisce per le qualità degli altri esseri e se ne godono entrambi nella grande amicizia con tutte le persone che noi potremmo incontrare nella nostra vita in modo equanime, senza fare differenza. e quindi tutti questi aspetti in cui ci portano inesorabilmente a sperimentare della sofferenza prima o poi si può trasformare, si può, senza buttar via niente, ma le stesse energie, le stesse emozioni possono essere esattamente l'opposto. Ma com'è possibile una cosa? Se una persona è arrabbiatissima, piena d'odio, piena di assi, come cavolo fa? A trasformare se stesso e diventare l'esattamente l'opposto. E non è una cosa che si fa come una bacchetta magica in cui si tocca, adesso dici così e succede. No, bisogna fare diversi esercizi, trasformare le proprie credenze, le proprie abitudini, che sono le abitudini che ci imbrogliano nel nostro quotidiano e quindi ci fanno ripetere le stesse cose, anche gli stessi errori, le stesse limitazioni, le stesse sofferenze. E quindi togliere la causa della sofferenza è un impegno, un impegno quotidiano di osservazione della mente. E subentra, cioè entra in campo l'applicazione metodica. non dico che bisogna avere la mente dell'idea del campione, ma quasi, o sì, sicuramente se uno vuole diventare Buddha. Ma diciamo, tutto questo lavoro di osservazione, di lavorare su se stessi, sul proprio interno, dà delle grandi soddisfazioni quando si vedono i cambiamenti della propria vita e, diciamo, la soddisfazione di avere una vita migliore, più bella, più libera, sgombra da conflitti, da problemi terribili che noi possiamo anche vedere di impatto per sapere la televisione, possiamo vedere di tutto, oramai l'abitudine dei rotocalchi è dare soltanto o quasi sempre solo notizie brutte, nefaste, perché comunque c'è un'abitudine di questo tipo, non sto a giudicare o a criticare nulla, ma il dato di fatto è che comunque è meglio non vedere troppo la televisione, capire le notizie che cosa succede, ma poi lavorare su se stessi per ottenere l'opposto, l'esattamente opposto. E quindi condizioniamoci pure in positivo. capiamo cosa vogliamo ottenere, chiaramente tutti vogliono essere felici, ma cos'è che crea la felicità? Dobbiamo chiedercelo spesso questo, perché è il perno di tutto il sentiero nella pratica del buddismo. Il perno è proprio la causa della sofferenza, se fossimo felici e non succederebbe mai nulla oltre alla nostra situazione confortevoli quando succede, noi potremo chiaramente andare avanti senza preoccuparci. proprio il Buddha stesso era un principe con tutti gli agi che può avere un grande principe e quindi però avendo fatto la scoperta che il suo stato non rimaneva quello ma ci sarebbe stato comunque la vecchiaia, la malattia e la morte e quindi l'impermanenza della propria condizione bella e piacevole sarebbe comunque subentrata prima o poi quindi prima di far subentrare questi aspetti si è dato alla pratica del Dharma in modo di risolvere definitivamente la causa della sofferenza. quindi ma perché interessarmi dell'insegnamento del Buddha perché l'insegnamento del Buddha dà giusto la chiave e la medicina per risolvere questa malattia legata alla sofferenza quindi questa medicina è è bella è efficace esiste da quando esiste Buddha e ci sono i maestri che si che si sono realizzati dopo dopo l'insegnamento del Buddha ed è continuato questo insegnamento fino ai giorni nostri e quindi è qualcosa di vivo di esistente si trova a portata di mano dei maestri molto molto grandi sono dei Buddha viventi maestri che continuano a tornare sulla terra e che comunque per voto di amore verso tutti gli esseri senzienti tornano con lo scopo di dare questo messaggio dare l'insegnamento del Buddha e aiutare dare una mano a chi vuole diventare Buddha ulteriormente quindi spero di aver dato un'idea di quello che è l'importanza del sentiero della pratica del Dharma Dharma vuol dire insegnamento che ha dato il Buddha dell'insegnamento e quindi come iniziare un passo alla volta un passo alla volta perché comunque c'è un mare di cose che si possono trovare e quindi avere la guida spirituale sicuramente è molto importante avere un programma da seguire e sperimentare cosa può succedere ognuno di noi può avere il proprio metro di avvicinamento a un sentiero spirituale e non devo dire che guardate l'insegnamento del Buddha è il più importante quello che ti porta a avere dei grandi risultati spirituali l'insegnamento del Buddha porta a diventare Buddha e quindi se si vuole ottenere lo stato di Buddha si devono seguire questi insegnamenti se invece si vuole ottenere altro si va dall'insegnante che insegna le altre cose che ci possono piacere e quindi è molto importante sapere ogni cosa cosa porta che tipo di risultato si può ottenere qualcuno potrebbe dire ma cosa vuol dire stare come stato di Buddha cosa vuol dire essere in quella situazione lì intanto non c'è più la causa della sofferenza quindi si è estinta la causa della sofferenza e quindi non si rinasce più nel samsara però si decide di aiutare tutti gli esseri quindi si rinascerà comunque nel samsara però non si è soggetti alla sofferenza o almeno non lo si è come lo siamo noi perché comunque i maestri hanno corpo fisico se si fanno male sentono del dolore o se succede che si ammalano hanno anche del dolore però è un'altra situazione una situazione in cui si padroni di più padroni di se stessi e della propria mente quindi si può si possono fare tutte le cose che non riuscivamo a fare prima principalmente si può fare un programma per poter aiutare gli esseri si possono studiare le formule adatte con la saggezza adeguata perché se vogliamo aiutare le persone veramente in quello stato di Buddha lo si può fare sul serio in modo perfetto va bene l'intenzione l'intenzione specialmente nell'allenamento della meditazione sul sviluppare buon cuore la disponibilità verso tutti gli esseri ci si allena a volere e si visualizza anche in modo ricco molto bello poi faremo una meditazione sull'equanimità e quindi faremo una meditazione di questo tipo che allarga la propria mente e il proprio cuore verso tutti gli esseri e quindi man mano che noi lo faremo questo subentrerà sempre di più come capacità perché noi richiamiamo dentro di noi queste capacità e come si dormissero un po' e poi arriva il maestro che dà l'avviamento che accende la lampadina interiore della propria mente e man mano questa cosa prende sempre più luce sempre più spazio dentro di noi e proseguendo nel sentiero arriveremo prima o poi prima o più prima che poi allo stato di illuminazione questa è una piccola chiacchierata proprio giusto per dare il senso della di perché perché si si vuole seguire un sentiero spirituale e perché chiaramente chi segue un sentiero spirituale non non vuole soltanto stare bene in questa vita ma vuole anche pensa che l'aldilà esista e che esista una continuità della propria mente e quindi ci si proietta molto più a largo raggio non soltanto a quello che appare nell'immediato è come un grosso investimento su se stessi per arrivare ad essere degli esseri estremamente felici estremamente perfetti perché comunque lo stato di Buddha è qualcosa che è al di là di tutto quello che è comprensibile per 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 chi sta nel limite della nostra situazione di persone che vive nel samsara e quindi soltanto esercitandoci e soltanto vedendo l'esempio dei maestri possiamo comprendere quello che possiamo diventare e questo è giusto per dirvi che è come andare alla caccia del proprio tesorio interiore se si sa io prenderò questo tesoro e sarò la persona più felice la più bella avrò tutti gli amici del mondo tutte le persone mi vorranno bene io vorrò bene a loro tutto sarà perfetto non esisterà la malattia saremo in un posto in cui tutte quante le persone sono uguali non c'è la proprietà tutti hanno tutto quando vogliamo avere una immagine di cos'è un paradiso nel buddismo si parla di terra pura invece noi abbiamo l'idea del paradiso è un posto in cui tutti stanno benissimo e tutti si occupano di hobby ma non di lavoro e quindi è una situazione che veramente ci sono anche dei posti sulla terra in cui lavorano meno che in italia perché sono un po' più hanno insomma hanno capito delle cose un po' più un po' più adeguate al vivere in modo più felice comunque a parte questa questa parentesi tutti quanti noi abbiamo un'idea di cosa vuol dire avere un paradiso come sarebbe una vita ideale come sarebbe un posto perfetto in cui non esiste più guerre John Lennon imagine John Lennon può essere un'idea di quello che potrebbe essere un luogo perfetto comunque che tutti quanti noi desideriamo perché volendo la felicità tutti noi vorremmo un posto in cui tutti sono felici tutti sono perfetti sono meravigliosi si sta bene quando c'è una persona bella cordiale gentile e siamo felici ci godiamo la persona anche se magari non l'abbiamo mai vista o conosciuta vedi una persona gentile rilassata ti fermi a guardare che bella persona come si sta bene con questo qui ecco e così immaginiamo centuplicata questa cosa in un posto dove tutti sono in modo perfetto sono sono bellissimi ognuno sanno sanno tutto in modo senza dover studiare ore e ore per ricordare qualcosa proprio il senso di quello che potremmo essere risvegliando le proprie qualità che dormono e quindi si parla risveglio illuminazione è un po' così l'idea come quando si accende una una luce in una stanza buia e quindi la nostra stanza buia si può illuminare perché i maestri sono venuti a posto dire guarda che possibile io ce l'ho fatta ce la puoi fare anche tu lavora applicate il lavora che puoi arrivarci è un po' quello che dicono e lo dicono abbastanza emotivamente lo dicono veramente in modo dicono sempre solo quello avanti fatevi da fare fate qualcosa mettetevi applicatevi nella meditazione nella pratica nello studio ritiri pratiche intensive maestri disponibili sempre sempre disponibili anche adesso riprenderò a fare i miei incontri su facebook e oggi non sono riuscito a farlo su youtube perché è cambiato non funziona più lo chiamare il tecnico che funzioni lo streaming massimo questa registrazione la passo lì non sarà streaming ma ci sarà comunque una registrazione di questa nostra chiacchierata sul buddismo non possiamo fare domande e risposte in via streaming però penso che qualcosina l'abbiamo vista e non direi di mettere tante cose perché questo è un po' il perno della situazione e direi di fare un pochino di meditazione insieme e poi vi inviterò a venire al centro a bel vedere e praticare un po' insieme gli orari del programma lo manterrò nonostante tutte le cose che ci sono adesso pensaremo nell'autunno faremo abbastanza metodicamente la meditazione settimanale e l'insegnamento prendiamo una posizione comoda prima cosa avere la spina dorsale dritta poi possiamo mettere la mano sinistra sotto la destra sopra in questo modo con i due pollici che si incontrano le appoggiamo in grembo le braccia staccate dal corpo portiamo l'attenzione al movimento del respiro mentre calmiamo la mente ispiriamo 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 l'attenzione lasciamo andare i pensieri rimaniamo presenti osservando il respiro l'aria che entra e che esce dalle narici rimaniamo presenti osservando il respiro visualizziamo di fronte a noi tutti gli esseri senzienti di questo mondo, di tutti gli universi tutti gli esseri senzienti intorno a noi sopra il nostro capo c'è Guru Buddha con tutti gli esseri illuminati tutto il lignaggio dei maestri, degli discepoli fino al giorno d'oggi un'infinità di Buddha che sorridono nei confronti di tutti gli esseri senzienti grazie a tutti chiediamo a Guru Buddha di concederci la sua energia ispiratrice affinché possiamo eliminare la causa della sofferenza sia per noi che per tutti gli esseri senzienti contento della nostra richiesta Guru Buddha ci concede la sua energia ispiratrice come un nettare che entra dalla sommità del nostro capo e che pervade tutto quanto il nostro corpo sperimentiamo soddisfazione una profonda felicità dal nostro cuore si emana della luce e del nettare che pervade tutti quanti gli esseri senzienti quando tocca gli esseri le sofferenze vengono completamente trasformate in altro nettare e gli esseri sono felici mentre facciamo questa meditazione possiamo anche recitare il mantra di Buddha Sakyamuni Om Muni Muni Mahamuni Sakyam Munie Soha Om Muni Muni Mahamuni Sakyam Munie Soha Om Muni Muni Mahamuni Sakyam Munie Soha Om Muni Muni Mahamuni Sakyam Muni Mahamuni Il Guru Buddha contento della nostra richiesta diventa dell'altezza di un pollice entra nella sommità del nostro capo e viene a depositarsi nel loto del nostro cuore diventiamo così inseparabili con la sua stessa qualità inseparabili dal Guru sperimentiamo ancora una più profonda felicità dedichiamo i meriti affinché questo possa essere la causa un giorno di diventare Buddha i meriti e le risorse spirituali con la dedica rimangono come in una banca interiore della nostra mente e un giorno porteranno questo grande frutto Gheva di Gnyur Duda Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. Ndjecci drol madrugjune, drova cingja malupa, te i zala go par shu. L'ultimo concerto è con una pugia, con gli strumenti tibetani e rituali in cui si fanno le cerimonie religiose. Nel mio concerto e altri dei due concerti che sono stati svolti, avevano come tema la spiritualità in occidente. E io ho scelto in questo concerto la poesia, i sentimenti dell'Ottocento italiano. Quindi vi ringrazio ancora a tutti quanti e vi do un caldo abbraccio a tutti voi e vi auguro ogni bene per il vostro sentiero spirituale e la vostra pratica. Ciao ciao da Maria Rosa